salve buongiorno a tutti benvenuti al webinar di ruba business io sono matteo soavi responsabile della tecnica di ruba business con me c'è mauro vaglietti sistemista segno di ruba business che oggi insieme a me vi racconterà l'icepid e perché abbiamo scelto l'icepid e se vuoi cambiare slide mauro così andiamo a vedere perfetto allora il perché di l'icepid come scelta in ruba business quelli che ci conoscono sanno che i nostri servizi sono basati su piattaforma sia su osti che su server dedicati con pannelli cpanel e plesk se sulla parte plesk l'architettura era basata basata su patch con nginx citava dei buoni risultati sulla parte cpanel su quelli che erano i nostri test di confronto performance avevamo qualche cosa da migliorare e quindi analizzando e cercando di tra le varie possibilità siamo prodotti sull'icepid e abbiamo iniziato a verificare e approvare quelli che erano le risposte che ci dava e abbiamo deciso di adottarlo per cui ad oggi sul nostro hosting con cpanel montiamo su tutti i server del hosting a ruba business la soluzione basata con l'icepid i criteri di scelta sono stati quelli che vedete elencati qua quindi noi serviva un qualche cosa di compatibile con il sistema cloud linux per cui è vero che noi abbiamo i sistemi basati su pannello plesk cpanel ma il nostro core è su basato su cloud linux e ci serviva come già vi ho indicato qualche cosa che fosse compatibile con i pannelli cpanel il plesk vi ho infatti detto che l'abbiamo rilasciato in produzione già da qualche mese sull'hosting cpanel ma è assolutamente compatibile anche con plesk c'è una piccola differenza all'interno delle interfacce di gestione per cui non è così integrato l'icepid all'interno del pannello plesk come su cpanel ma su piattaforma dedicata sia con server fisico server dedicato possiamo tranquillamente rendere fruibile l'icepid anche su plesk poi ci serviva qualche cosa che non creasse problematiche clienti tant'è che noi abbiamo fatto roll out di un centinaio di server e abbiamo sostanzialmente ricevuto due segnalazioni di una problematica conosciuta e quindi documentata che abbiamo risolto praticamente nel giro di pochissimi minuti e da subito senza fare nulla siamo accorti dai nostri server che utilizziamo per fare statistiche di un abbassamento del time to face by quindi la performance senza applicare da parte del dell'hosting nessuna attività di caching che poi dopo con mauro andremo a vedere ha dato da subito una migliore risposta in termini di risposta così come una caratteristica che abbiamo visto con l'icepid è quella di riuscire a generare un carico complessivo del server inferiore per cui ha parità di installato perché chiaramente noi abbiamo messo l'icepid sostituendo apash mantenendo gli stessi mini e quindi lo stesso carico ma ci siamo resi conto che il carico complessivo del server è molto leggero riesce a eragare più velocemente richieste e quindi a rendere più snello quello che è il server inoltre è una cosa non da trascurare è il fatto che l'icepid dava a disposizione plugin per i più utilizzati cms a titolo gratuito per cui chi desidera integrare un wordpress un joomla un prestashop con il nostro licepid ha il plugin scaricabile e attivabile quindi ora adesso vediamo insieme a mauro quella che è la parte di configurazione all'interno del pannello cpanel e poi andiamo nel dettaglio prendendo come esempio wordpress che è uno dei cms sicuramente più diffusi in questo momento la parte di configurazione anche all'interno del pannello admin andando nel dettaglio di quelli che sono le varie variabili quindi vediamo live e mauro ci spiega nel dettaglio come si configura come si imposta buongiorno a tutti allora cominciamo subito da come abbiamo detto qui siamo in piattaforma vhm quindi cpanel che diciamo ha una sorta di integrazione un po più approfondita rispetto a plesk ma poco cambia diciamo partiamo subito dalle configurazioni base di light speed queste configurazioni diciamo vi troverete a modificarle a insomma adattarle a voi solamente in caso di un server diciamo in completa vostra gestione in caso di hosting o server manage siamo noi che ci occupiamo di tutta questa parte che è un po diciamo quella più che va più nel profondo del setaggio light speed e si tratta di un vero e proprio tuning e configurazione a basso livello però è giusto vederlo per renderci conto di quello che light speed è in grado di permetterci di configurare quindi entrando nella parte light speed web server del pannello cpanel qui abbiamo le configurazioni di di light speed la prima cosa che vi dico appunto si vede subito sia per plesk che per cpanel light speed è alternativa ad apache quindi in un server o useremo light speed o useremo apache più ingenie x diciamo come come state che non è possibile farli lavorare insieme per cpanel e plesk ovviamente però è facilmente switchabile per l'intero server da light speed da apache semplicemente cliccando un bottone qualora ci dovessero essere dei problemi o quant'altro quindi andando in light speed configuration entreremo nell'admin che è questo che vi ho già aperto di light speed come vedete sono configurazioni particolari cioè andiamo a definire il server name il numero dei processi attenzione ve lo dico perché questo è uno dei subito dei temi che subito crea un po di allarmismo diciamo questi numero di processi non sono i processi che poi potrà eseguire il server ma sono i processi light speed che utilizza lui per diciamo fare i suoi compiti iniziali per semplificare diciamo terminazione ssl rotazione delle richieste verso il gestore php piuttosto che nella cache mediamente light speed dichiara che per un sito ovviamente a basso in basso basso numero di visite già un processo è sufficiente quando passiamo a due o tre processi secondo light speed gestiscono anche un server con tre quattrocento domini abbastanza visitati quindi diciamo che in questo caso è solo un discorso di licenza ovviamente con tre processi abbiamo già un server in grado di gestire un abbondante flusso di domini e di richieste che ripeto non sono non sono collegate poi a quelle che sono le richiede le i processi php mai si quelle quant'altro di cui invece abbiamo bisogno per per eseguire le richieste per i mauro non stiamo lavorando su un server dedicato cloud che abbiamo chiaramente messo in piedi per fare il nostro webinar non vediamo direttamente la configurazione dei server di hosting ma lavoriamo su un server dedicato diciamo esatto qui tra l'altro non ho toccato quasi nulla sono le configurazioni diciamo di default se no a parte piccole cose però vedete proprio parla di dei gruppi da utilizzare il ch root il cloud linux appunto che sta sotto la directory dove mettere lo swap cioè settaggi molto a basso livello che nella maggior parte dei casi un utente nei manage magari non gli interessa neanche conosce come ripeto ci occupiamo noi di andare a fare con tutta questa settaggio queste ottimizzazioni al posto suo però se decidete di installarvi light speed in un server completamente vostro sappiate che qui ci sono delle configurazioni importanti da fare per esempio anche molto carina il tuning vedete dove vi può dire quante connessioni il massimo accettare addirittura no nel security un altro aspetto interessante che a volte ci chiedono c'è il wordpress brute force attack protection il waf che già in place che è un po il mod security per intenderci o addirittura vedete il il trottling quindi la limitazione per ip di richieste al secondo di banda di conne di connessioni insomma quindi potete già andare a fare a proteggervi dagli attacchi di dos insomma niente qui abbiamo visto appunto i settaggi base che stanno sotto al light speed però diciamo che passiamo invece a vedere quello che è gli aspetti un po più dedicati che invece vi troverete più spesso ad affrontare a parte la configurazione iniziale allora Matteo vi ha detto che c'è un'integrazione più leggermente eh migliore con cpanel se di fatto si traduce in questa pagina eh che cpanel mette a disposizione dove se avete più di un dominio eh scusate non questo ma con la fianco dove se avete più di un dominio potete andare a decidere eh quale in quale dominio vediamo un attimo eh in quale dominio abilitare la cache vuole un piccolo update ehm in quale dominio abilitare la cache direttamente da qui senza andare a passare per ogni installazione vedete che qui io ho messo due domini di test quello che useremo oggi che è letspeed.rubabiz.net dove ho abilitato la cache e lo vedo a colpo d'occhio e un altro di test dove non ho voluto abilitare la cache e quindi ce l'ho a colpo d'occhio. Questo mi permette in caso io avessi centinaia di domini o comunque un numero elevato di farlo in maniera rapida e non dover andare dominio per dominio a eh diciamo configurare la cache o abilitarla. Questa diciamo la macro differenza tra i due pannelli come integrazione poi il resto in realtà si fa tutto dall'interno del nostro pannello. Quindi eh una volta che io ho eh il mio pannello e il mio diciamo installo il mio WordPress per esempio. Questa qua è la baccheca del mio WordPress. Come vedete qui io ho già installato perché per far funzionare WordPress diciamo ottimizzarlo e avere tutte le impostazioni con Lightspeed devo installare il suo plugin che si chiama appunto Lightspeed Cache. Ok? Vi ricordo plugin sono disponibili per eh leggo perché eh mi ricordo Magento, WordPress e WooCommerce, Joomla con il supporto a Virtumart, Xenforo, PrestaShop, MediaWiki, Drupal, CraftCMS, OpenCart e Laravel. Questi sono plugin già pronti che potete usare su tutti i vostri ehm applicativi eh nulla vi vieta ovviamente di crearvelo a mano. Ci sono tutte le eh la documentazione se se volete crearvi alcune alcune plugin o alcune insomma eh aree dove volete fare voi la la cache però questi sono quelli già pronti e messi a disposizione da da Lightspeed. È una cosa che hanno detto prima forse Mauro eh quindi ribadiamo che i plugin sono gratuiti però Lightspeed il web server ha una licenza a pagamento basata sia su il numero di worker che anche sul numero di siti gestiti corretto. Ok. Lightspeed è un prodotto a pagamento non è gratuito. Ok. Esatto. Lightspeed a pagamento e il plugin poi ovviamente sono gratuito cioè ovviamente poi i plugin sono gratuiti. Ehm entrando nel plugin Lightspeed una volta installato è fruibile comunque direttamente all'installazione di WordPress. Ehm lui ci propone subito la eh dashboard. Qui in alto vediamo un riferimento a Quick Cloud. Quick Cloud è un servizio a pagamento e non necessariamente attivabile. Per intenderci magari qualcuno qualcuno di voi non lo conosce o qualcuno si è eh diciamo un un equivalente di ehm eh scusate che mi viene il luogo di Cloudflare esatto. Ehm quindi permette di andare a fare di aggiungere una sorta di CDN eh ottimizzazioni di altro livello tipo delle immagini CSS o quant'altro ma non è argomento del nostro webinar di oggi perché ripeto Lightspeed comunque nasce muore funziona bene già così. Ehm in caso abbiate bisogno di una CDN o di altri servizi potete addirittura aggiungere questo servizio o anche andare ad abbinare un Cloudflare prima di Lightspeed. Qui noi vediamo va bene la dashboard adesso la magari la vediamo dopo quando abbiamo eh capito un po' meglio tutti i funzionamenti. Qui c'è in prima battuta i preset. Se volete iniziare non sapete da dove iniziare e volete diciamo avere una preconfigurazione di quello che eh potete pensare essere meglio per voi qui lui già vi applica dei preset. Vi lascio leggere quello che c'è però noi oggi andremo un po' più a fondo andremo a visualizzare ogni aspetto diciamo i macro ovviamente i principali di eh delle possibili configurazioni e quindi non applicheremo un preset. Andiamo a vedere un po' quello che eh ci propone lui di default. La prima parte eh la parte generale va bene qui eh parla di un upgrade se vogliamo appunto che Lightspeed Cache venga upgradeato automaticamente. La domain key è quello che serve per attivare i servizi in Quick Cloud che vi dicevamo a pagamento quindi niente di che ma prima di vedere queste parti la guest mode eh che sono anche altre parti partiamo dal farvi vedere come attivare il core di di eh Lightspeed. Dal pannello cache ok? Dal pannello cache partiamo con i settaggi veri di Lightspeed cioè abbiamo come primo settaggio il padre di tutto cioè enable cache on o off. Qui spegnete accendete la cache generale quindi se lo accendete qui avrete eh il nostro il motore in funzione diciamo con la cache altrimenti non userete la cache. Cache logged in user ecco questa è una funzionalità già diciamo importante e innovativa da di eh Lightspeed perché perché nei meccanismi di cache tradizionale spesso eh gli utenti loggati eh non riuscivano a venire cacciati eh Lightspeed supera in parte questo eh problema cioè ehm andando ad associare la la un utente dal proprio IP e dal proprio di disessione crea una cache privata per quest'utente. In cosa si traduce questo? Si traduce che quell'utente anche navigando in pagine una volta loggato avrà un meccanismo di cache e quindi che lo aiuterà ad avere una risposta più veloce. Di contro questo vuol dire però eh una crescita delle informazioni nelle eh nel disco di cache perché per ogni utente avremo delle delle pagine cacheate appositamente per lui. Ok? Quindi eh normalmente in quasi tutti i casi d'uso lasciarlo acceso è un bene se il vostro sito dovesse cioè se voi dovesse avere problemi di di disco ma parliamo di poco disco perché per ogni utente poi a seconda del TTL che mettete o altre cose che vediamo in seguito eh comunque le pagine resteranno per un breve periodo di tempo. Comunque se dovreste avere problemi di disco o questa funzione non non vi servisse perché la maggior parte dei vostri utenti non è loggata e possiamo andare a disabilizzare. Eh la cache dei commenti quindi ci permette anche di avere cashati i commenti eh la cache delle REST API eh la cache del login page quindi anche addirittura della proprio della schermata di login di di Plesk eh della Favicon e diciamo PHP e mobile. Mi fermo soltanto un attimo perché tutto questo ovviamente è documentato è documentato molto bene. Qui trovate il link. Se ci andate vi apre appunto il la pagina Lightspeed che vi spiega esattamente cosa fa ognuno di questa di queste opzioni. Eh nelle slide comunque ho messo i riferimenti a questa documentazione in modo che potete andare a eh vedere con calma insomma tutte le tutte queste funzionalità. Proprio per cominciare a eh qui la cache mobile è il appunto crea una una cache separata addirittura per gli user agent che potete andare a specificare qua quali sono per gli utenti mobile. Quindi se avete un sito eh che ha delle pagine differenti per l'utente mobile e per l'utente ehm eh diciamo desktop o di altro tipo qui lui addirittura vi permette di andare a fare una cache dedicata a loro. Ci sono eh potete andare a specificare eh delle degli URL che saranno sempre cacheati come privati private quindi eh saranno visibili solo per l'utente con quelli P e con quelli D se c'è questo se c'è questo qualcosa nell'URL eh ci sono potete andare a specificare degli URL che saranno cacheati a prescindere anche se eh ci sono degli opzioni per esempio come vedete qua eh se da qualche parte trovate l'opzione no cache eh forzata. Lui se qui trova un URL o attenzione una reg che dice e qui vi spiega come farle no per esempio eh che dice che quella pagina va cacheata a prescindere lui questo lo fa. Al contrario qui invece forza un URL a essere pubblicato nella cache pubblica quindi questo URL deve essere sempre messo nella cache pubblica quindi non andrà a consumare dati nella cache privata sul disco ma sarà sempre fruibile. Eh qui potete andare appunto a invece a eliminare alcune query quando cioè non mettere in cache alcune quando ci sono alcune alcune stringhe nella nella query. Ok vediamo giusto per fare un confronto rapido eh del del nostro eh sito. Allora questo qua è il nostro sito che io ho eh creato velocemente. È un Lightspeed dove ho messo due prodotti ehm di in un e-commerce scusate è un WordPress con un WooCommerce con due prodotti e questa è la pagina shop. Ok? Se io adesso accedo eh trovate anche in uno in una documentazione che poi vi lascio nelle slide eh il modus migliore secondo Lightspeed per fare i test e per accorgersi della differenza delle performance che è un po' questo che vi sto facendo vedere adesso. Cioè io apro questa pagina vedo quanto impiega. Qui abbiamo vedete novantaquattro millisecondi. Novantaquattro millisecondi ad aprire questa pagina. Eh in questo caso avendola già aperta. Attenzione cosa mi dice Lightspeed? Qua lo vediamo subito. Lightspeed mi mette nel leader un'informazione. Mi dice la cache è it perché questa informazione io l'ho refreshata e quindi questa pagina l'avevo aperta da poco e la vedo. E in più mi dice attenzione sei in private. Perché in private? Perché io qua sono loggato vedete? Quindi lui questa cache l'ha generata appositamente per me tutta questa pagina. Tutta questa parte tutto il contenuto ecco è generato per me per il mio IP e per la mia sessione. Ok? Quindi come vi dicevo in questo caso io sto vedendo una cache privata. Se io vado a nelle configurazioni e gli dico no guarda a me la cache privata non interessa. Ok? A questo punto Lightspeed dirà io eh ti riferisco due volte in modo che la va a ricostruire. Lui mi va a creare una una cache ma a questo punto e se io adesso sono ancora il cresciato non sarà più di tipo privato ma sarà pubblico. La cosa che mi interessa farvi vedere adesso è nel mio browser. Ok? Quindi non riesco a farvelo vedere immediatamente però ecco questo è il funzionamento della della cache. Vediamo se ho lasciato l'SI. Ok ho disabilitato. Quello che mi interessa farvi vedere sono i tempi di risposta con la cache abilitata o meno nella nella generalità. Cioè questo è una è il sito diciamo senza cache di Lightspeed abilitata. È un sito ripeto è molto semplice senza plugin, senza niente. ok vediamo rifresciato così abbiamo abbiamo la cosa. Abbiamo un un timing di 589 millisecondi per aprire questa pagina e un total di 1 e 26 secondi. Ok? E qui la pagina non è cacciata. Per passare a un Lightspeed che poi quello che ci interessa eh vedere effettivamente con le con le come prestazioni 589 abbiamo detto è oltre un secondo quindi facciamogli costruire la cache qui con tutte le cache abilitate ok vedete da 589 millisecondi siamo passati a 93 millisecondi con un total con un finish di 815 millisecondi quindi capite bene il vantaggio eh in termini di di performance tra Lightspeed e Lightspeed senza cache quindi ovviamente il plugin di Lightspeed è sicuramente da installare da configurare per avere performance migliori. Attenzione che il timing è solo uno degli aspetti di Lightspeed di ottimizzazione di Lightspeed perché sì è vero il timing è importante ehm soprattutto grandi carichi ma quello che abbiamo visto davvero a far la differenza sono i carichi del server perché soprattutto con la login con la cache delle parti loggate e quant'altro riuscite a ridurre di molto il carico del server quindi eh server che prima ovviamente parliamo di server di di siti magari con centinaia o migliaia di utenti contemporanei per avere un riscontro netto eh comunque eh abbiamo visto delle dei dei cali drastici nei load del server quando si switchava da Apache, Nginx, Mancache, altri sistemi di cache a Lightspeed qui proprio è da da provare per rendersi conto effettivamente della del guadagno. Lightspeed ovviamente si intrisseca con i vostri plugin con quello che sono le vostre richieste quindi ogni sito diciamo è da provare per rendersi conto davvero il margine di miglioramento però diciamo che in linea di massima eh non abbiamo mai visto peggioramenti quindi tecnicamente eh lo riteniamo un prodotto valido che vale la pena provare visto che comunque lo lo mettiamo a disposizione anche sugli hosting con cpanel eh diciamo che è facile e senza un grande sborso né di tempo né di economico fare un test veloce per subito rendersi conto di quanto un sito può eh migliorare. Avete la parte poi dei TTL eh dove appunto andate a a definire sia le cache pubbliche che le private che il front page quindi quella messa subito eh come come prima pagina i feed il rest del delle che abbiamo visto prima eh l'http status code page questo anche interessante eh perché qui dice ehm quando torna una pagina torna un certo codice di ritorno per esempio qui ci sono i quattrocento quattro e cinquecento che tipicamente vuol dire qualcosa di eh non buono ok lui dice attenzione anche se questa pagina ok è in una cache pubblica e quindi per me dovrebbe stare una settimana in che questo è il valore di default eh dovrebbe stare una settimana se quella pagina mi ha tornato un quattrocento quattro vuol dire che c'è qualcosa che non va quindi il suo TTL riducilo riducilo a tre mila e seicento che vuol dire un'ora questo fa sì che eh senza il vostro intervento manuale di andare a pulire cache aggiornare fare cose strane lui si accorge da solo di tutte le pagine con i codici che gli dice gli dite e le eh le va va a pulire sostanzialmente questa cache in maniera più ehm repentina a seconda di quello che voi andate a mettergli impostargli qui il purge va bene è la la pulizia della cache lui vi dice addirittura potete andare a impostare quando lui fa il purge automatico quindi appunto nel caso di pubblicazioni in caso altro qui c'è questa impostazione che può essere a vostro rischio pericolo utile o meno quel server stel vuol dire che eh se io lo lascio on eh questo interviene nel momento in cui il sistema sta va rigenerando la cache una una pagina di cache se in quel momento eh diciamo che tipicamente un sistema di cache cosa fa se non ha una pagina in cache la va a ricreare e ve la fornisce ok questo implica una certa eh un certo dispendio di risorse del server soprattutto se i visitatori sono tanti e magari la rigenerazione della cache non so ci mette due o tre secondi per quella pagina perché è una pagina complessa e eh voi in quei due o tre secondi avete tanti utenti normalmente quegli utenti in l'istante avevano un sito più lento voi avevate un sito più un server più carico perché la che si stava rigenerando in questo momento invece eh con questa opzione lui cosa fa vi dice finché la cache eh non è rigenerata continua a gesti a dargli la cache precedente anche se è scaduta di default questo è eh disabilitato lui vi dice attenzione abilitate questa questa opzione se sai bene cosa stai facendo perché è una cache non valida cioè scaduta è vero potrebbe essere per il TTL ma potrebbe essere anche per altre vostre logiche che invece non deve più essere usata quindi è da fare solo se eh siete certi che le le che scadute sono solo per il TTL diciamo e vi posso possono essere riutilizzate addirittura potete andare a eh inserire degli URL che lui che ehm farà di cui farà la pulizia di quelle le pagine in maniera schedulata tipicamente lui rigenera le pagine quando vengono visitate se voi avete delle pagine però che ci tenete che siano sempre in cache potete andare a schedulare un URL in modo che quelle pagine siano sempre pronte eh per chiunque per essere per essere gestite dalla cache per essere presi dalla cache qui andate a definire quando ehm fare quella quella pulizia di quelle di quegli URL che avete indicato sopra e qui appunto ci sono anche gli UCS che questi sono quelli già di default di di Plesk tipicamente eh questo cosa fa fa sì che se voi avete una pagina con per esempio la lista dei ehm mettiamo che voi nel vostro template avete che in tutte le pagine avete la lista degli ultimi articoli pubblicati ok quando voi andate a pubblicare un nuovo articolo di fatto questo invalida la cache di tutte le altre pagine che hanno la lista con quelle l'elemento perché perché quell'elemento deve cambiare deve aggiungere un elemento nuovo all'articolo pubblicato se avete una lista di questo tipo questi UCS fanno questo cioè tipicamente quando voi cancellate aggiungete link fate qualcosa loro vanno a ehm fare il purge della cache che sa avere tutti i collegamenti tutti gli URL collegati ehm WordPress vi permette anche di andare a definire dei propri eh dei propri UCS quindi andare a eh crearvi un vostro plugin con con delle vostre eh settaggi dedicati diciamo andiamo un po' più nel fondo però lui già di default vi mette quelli di default tipicamente con questi e lui vi pone anche quelli sono quelli di default nel caso li cancellate o meno qualsiasi operazione importante su WordPress voi fate lui andrà eh ad assicurarsi che siano invalidate tutte le cache che che hanno degli oggetti in riferimento a quello che state cambiando gli exclude setting va bene sono delle cache che ci permettono cioè dei settaggi che ci permettono di andare a eh specificare a eh light speed cosa non cacheare ok mh non entriamo nel dettaglio qui entriamo in un altro nel terzo aspetto della cache di eh light speed allora abbiamo detto che light speed ha una cache pubblica una cache privata basata sull'IP e sull'ID della sessione e light speed mette a disposizione questo che è il motore ESI lui lo chiama cosa vuol dire ESI vuol dire di fatto l'utilizzo intelligente di una cache pubblica e privata cioè con i due meccanismi che abbiamo visto prima un utente non loggato aveva tutta la pagina eh presa dalla cache pubblica un utente loggato aveva tutta la pagina presa dalla propria cache privata e tra questi non c'era niente eh in comune con ESI invece light speed cosa fa capisce quali sono gli elementi pubblici anche di una pagina in cui io sono loggato perché come vedete nella nostra schermata questa pagina che io sia loggato meno di fatto è la stessa in molti dei suoi aspetti a parte qui sopra eh leader che mi fa vedere che sono loggato meno tutta questa parte le immagini e quant'altro e sono le stesse anche per un utente non loggato e allora lui cosa fa qui con ESI abilitato lui andrà a capire quali sono le parti private e me le metterà nella cache privata e quali sono le le parti pubbliche e quindi quelle me le fornirà dalla parte pubblica quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo metodo allora il vantaggio è sicuramente una minore molle di dati nella cache perché non ci sarà più tutta la pagina memorizzata nella cache apposta per me ma solo le parti private ok gli svantaggi è che eh dietro a questo ci sta un'elaborazione da parte del server perché deve capire quali di queste parti della pagina sono private e quale pubbliche soprattutto nel momento in cui costruisce la cache per cui eh la facebook stesso se andate vedere la documentazione dice non esiste un è meglio attivarlo o non attivarlo diciamo che fondamentalmente eh lui dice va approvato sul vostro server ma fondamentalmente si potrebbe intuire che eh ha molto senso su un sito dove eh una volta loggato l'utente ha poche informazioni eh diciamo private e molte che sono uguali a quelle dell'utente pubblico ne ha meno se un utente una volta logato cioè parliamo di un gestionale dove vede tutte cose eh sue che nessun altro mai vedrà in quel caso forse è meglio non attivare l'SX perché tanto eh lui avrà sempre eh parti che nessun altro che non condoviderà con nessuno fondamentalmente o con pochi utenti non con la massa diciamo che è quella che ci interessa andare a coprire col meccanismo di cache quindi anche qui tipicamente eh potete abilitarlo non crea grosse grossi scompense al server però per capire se effettivamente vi porta beneficio o meno magari in termini di caricamento in termini di spazio in termini di carico di io su disco sulla ram o quant'altro eh dovete proprio provarlo e toccarlo con mano qui appunto lui vi dice vedete riesce a cacciare l'admin bar caccia i commenti la fonda i commenti qui vi dice appunto se ehm andare a farlo in caso di nonce diciamo entriamo nei nel caso in un caso approfondito che che diciamo andate a leggere documentazione ma diciamo sono casi rari di utilizzo così come come dare un peso diversamente a secondo dell'utente che va a a loggarsi o a utilizzare questa funzione comunque in questo caso io adesso l'ho abilitato se io torno sul mio sito eh io sono loggato e anche qui i tempi vediamo un attimo di risposta facciamogliela caricare ok ok i tempi di risposta comunque restano buoni abbiamo un leggermente incremento ecco vedete qua rispetto ai 90 di prima 126 perché lui ha ricostruito questa cosa eh e in questo caso ecco quello che volevo far vedere prima che non ero riuscito perché il il era disattivato l'SI lui qui la cash non mi dice più che è privata perché lui in realtà mi sta fornendo eh sia cash pubblica che privata quindi informa direttamente che la cash che io sto vedendo è quella pubblica fondamentalmente però ci sono delle parti di queste prese dalla eh dalla cash privata ok quindi ehm queste diciamo è uno degli aspetti fondamentali che cambia un po' rispetto a altri meccanismi di cache che l'avete utilizzati quindi tra il pubblico la cash pubblica la cash privata e la cash diciamo che lui chiama ESI che è quella diciamo generata dinamicamente da lui che prende sia la parte pubblica che quella privata e la mischia eh cercando di ottimizzare il tutto ok object cache in questo caso è disabilitato eh main cache può andarsi eh scusate eh light speed può andarsi a ad appoggiare anche a main cache o redis qui eh per un nostro partner dei ci siamo spinti oltre abbiamo fatto dei test eh approfonditi per vedere le performance di light speed sia con che senza l'object cache e diciamo che in realtà non abbiamo visto nette differenze mh ripeto noi partiamo sempre da dei test ovviamente con dei domini abbastanza scarni senza grossi plug in senza grosse personalizzazioni diciamo che anche qui vale un po' il discorso che eh sia il memcache che redis sono sono appunto servizi di cache ad oggetti che vi permettono di andare ad ottimizzare tutte le le richieste e dipende molto da come è fatto il vostro il vostro codice però nel caso sia di server nel caso dei losting non avrete memcache e redis a disposizione eh nel caso di server dedicati ovviamente server gestiti a voi in toto potete andare invece a richiederci l'aggiunta di memcache o redis come preferite però ripeto quello che abbiamo visto su siti eh semplici anche facendo dei test molto eh diciamo pesanti con migliaia di utenti contemporanei o più non abbiamo visto una netta differenza anzi in alcuni casi eh funzionava meglio light speed da solo che con l'object cache però ripeto sicuramente quando il sito comincia ad essere complesso ha delle query magari pesanti o quant'altro hm mencache e redis potrebbero dare una mano in quei casi quindi ecco anche in questo caso ehm vale la regola che sempre provare eh la 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 soluzione sul proprio codice è fondamentale l'ultima parte che è quella appunto standard nelle nella nella configurazione è il il browser cache quindi se volete che oltre al cache al caching che fa la la il server venga abilitato il browser che questo sì è importante però diciamo non vi risolve le diciamo le sorti del sito perché ovviamente vale solo per i browser che hanno hanno visitato il vostro sito quindi diciamo che non tocca la la maggior parte dei degli utenti se arrivano in maniera improvvisa qui ci sono delle impostazioni eh avanzate che vi direi di non toccare almeno che eh non sappiate esattamente o non avviate dei problemi in particolar modo eh e e qui c'è una parte anche qui come dicevo qui ho WooCom si è installato quindi lui si accorge per tutti i praticamente prima e diceva vi dà del dei modi per andare a definire quando pulire la cache in che modo insomma e come fare questa era diciamo il eh diciamo le configurazioni principali che abbiamo trovato nel nel nella cache setting queste sono quelle che sicuramente dovrete andare a toccare eh appena mettete eh appena attivate il light speed soprattutto il plug in altra cosa importante che non vi ho detto all'inizio è eh regola generale che comunque è sempre bene ripetere i plug in di cache uno e uno solo eh lui è abbastanza intelligente quando andate installare il light speed cache per esempio se di default avete messo non so un v3 total cache un un altro plugin di cache ma così lui vi avvisa vi dice attenzione che c'è già un altro plugin di cache questo ci può far pestare i piedi a vicenda quindi il nostro consiglio è sempre non disabilitare ma disinstallare un plugin di cache gli altri plugin di cache che avete perché se disabilitati spesso siamo accorti che comunque lasciano delle parti o continuano a generare la cache continuano a fare altre operazioni che appesantiscono per nulla server quindi disinstallate tutti gli altri eh gli altri plugin di cache altra cosa poi andando avanti qui avete invece potete entrare nel dettaglio di configurazioni più più eh avanzate la cdn come vi dicevo è un servizio che però avete solamente andando via scrivere su eh quick cloud così come l'image optimization l'image optimization e il page optimization qui lui ecco attenzione qui light speed nel page optimization vi permette anche di andare a fare un mini file dcss e altre cose importanti eh questa è forse la parte che eh dovete fare più attenzione in caso di problemi di eh di di visualizzazione del sito soprattutto se ci mettete davanti eh altri meccanismi come cloud flare eh o altri meccanismi di cache che già hanno queste funzionalità eh il consiglio è quello di andare a disabilitare eh la la mini file dcss così come altri settaggi come appunto js e mini file e altre cose anche la che tml mini file cioè siate certi che l'importante che lo faccia uno e uno solo il lavoro non più di un motore quindi se lo fate fare a cloud flare davanti e a eh lui dopo abbiamo esperienza per cui avrete magari delle delle problematiche che è difficile poi andare a a capire ecco il senso è o usate uno o usate l'altro non usate mai entrambe le le modalità eh come page optimization appunto abbiamo visto database anche qui eh abbiamo questa pagina che dove lui ci fa un summary quindi abbiamo una un colpo d'occhio su quello che sono eh lo stato del database e ci permette appunto di andare a fare un'ottimizzazione eh del database quindi se pulire se pulire i commenti i transienti appunto che spesso eh wordpress lascia in giro le tabelle da ottimizzare le le revision dei post quindi sapete che quando modificate un post di wordpress lui tiene lo storico l'history qui potete andare a pulire l'history che magari non vi serve eh le bozze insomma sono piccolezze ma che spesso vanno poi a eh incrementare la la velocità di fruizione soprattutto perché attenzione eh quello che non ho detto esplicitamente ma eh spesso succede è anche il back end che si rallenta avendo questa sorta di la cache privata e questo ASIC che che lavora in simbiosi andrà a aumentarvi anche le performance a migliorare le le performance del back end e giustamente qui allora lui vi dice ok sto a ottimizzare tutto il back end assicurati che anche queste cose siano eh ottimizzate perché queste aiutano eh nell'ottimizzare nella la velocità del back end vi permette di di aggiungere quante revisione al massimo avere o quanti giorni mantenere insomma da questo eh i crawler un'altra informazione che potete andare a dire appunto è eh in questo caso non è abilitato eh però se volete andare a definire i motori di ricerca o altri crawler se vogliono vogliamo andare a qui possiamo andare a fare dei settaggi eh appunto mettere delle block list a mettere degli del delle diciamo settaggi come eh il massimo tempo di delay della durata insomma potete andare a definire eh dei settaggi che sono importanti anche nella sitemap eh per ottimizzare anche durante l'arrivo di un crawler mh direi che vediamo se c'è altro qui che possiamo andare a vedere in maniera interessante il toolbox sono è l'ultima cosa appunto che vi permette di andare a pulire la cache di andare a fare operazioni eh massive diciamo sul vostro dominio quindi andare a pulire vedete qua il front end il cinquecento error error tutta la cache eh la la vediamo qui l'import export ecco dei settaggi perché se dovete migrare da un server all'altro potete già portarvi settaggi di questo l'HT access vi permette di vedere appunto qual è l'HT access che attenzione lui va a editare eh va a inserirci tutti i suoi parametri ve lo dice prima non so se non ve l'ho eh sottolineato ma eh ogni volta che voi andate molti dei parametri che voi andate a editare eh nel settaggi di cache lui andrà a aggiungere una una parte ecco per esempio vedete quando voi dite voglio la parte mobile sia mandata in cache lui vi andrà a aggiungere delle rewrite cond per per cui appunto quelli con quegli user agent che voi avete detto eh verranno messi in cache insomma qui avrete il colpo d'occhio di quello che è quello che lui ha generato l'Earthbeat eh qui appunto vi dice controlla eh che tutto funzioni o meno oppure eh vi segnala vi segnala la cosa i report potete andare a mandare eh potete mandarvi un report con il system information e poi vabbè eh debug e altre funzioni che log eh e beta che non stiamo a vedere che possono servire diciamo nella maggior parte dei casi eh in caso di problematiche. Questa era una visualizzazione abbiamo visto abbastanza abbiamo visto tutto ovviamente ogni aspetto poi va approfondito eh come vi dicevo prima banalmente in ogni di questa ogni parametro di questo che magari non è così facile di cui non è così facile capirne eh c'è il link alla eh sua guida quindi abbiamo tutto qui siamo nella toolbox io ho cercato il purge vi spiega appunto cosa fanno ogni pagina cosa fa questo e importante che vi ho messo anche nella guida eh nelle scuse nella nella presentazione che potete andare a vederlo eh ci sono anche tutte le informazioni qui vedete io adesso non è il plugin WordPress però qui ci sono tutti i plugin che vi mostravo prima eh quindi con la con i vari pannelli che avete a disposizione con i vari vostri codici e ci sono dei dei consigli appunto eh che vi dicevo prima che trovate sempre qui se concetti base come iniziare insomma come fa troubleshooting quindi vedete qui quello che vi faccio vedere prima io per vedere il tempo di caricamento quanto beneficia davvero il vostro server o meno e qui ecco vedete che vi dice eh anche di andare a disabilitare per esempio Cloudflare o altri meccanismi di cache che avete avanti per andarvi a rendere conto davvero di quello che è il il beneficio della della cache perché addirittura qua lui dice che a volte su numeri alti eh vedete che qui con Cloudflare abilitato se non ricordo male no qui disabilitato fa duemila ottocento richiesta al secondo con una curl con una B penso che esatto con una B mentre con Cloudflare abilitato scende a settecentocinquantase richieste al secondo quindi non è detto che sempre Cloudflare eh se non avete bisogno di una CDN o di qualcosa di particolare eh faccia meglio del del server diretto e puro comunque qui trovate tante tante altre informazioni per eh per approfondire tutto quello che oggi abbiamo visto in maniera diciamo un po' veloce dimmi Matteo no non ti sentiamo al microfono se vogliamo dare uno sguardo a un paio di domande sì esiste ne faccio anche una io esiste anche una versione open di high speed oltre a quella eh a pagamento eh ci sono c'è una pagina dove fanno vedere anche nel dettaglio quella differenza ma è anche possibile se non ricordo male scaricare la versione trial di di high speed se volete fare eh un test eh sul vostro server quindi sia la versione open con le funzionalità limitate oppure la versione high speed enterprise eh in versione trial volendo esatto esatto ehm come si fa ad abilitare nel Plesk dal server in host e quanto costa eh qui rispondo io questo non è sul Plesk se ho capito bene la domanda eh sui server in hosting è solo ed unicamente sui server con cpanel non ha nessun costo in più quindi il costo di licenza è a carico diciamo così del business e fa parte ed è compreso nel pacchetto del piano hosting eh quindi nessun costo aggiuntivo ma solo sui server con cpanel è possibile installarlo su Plesk ma solo su dedicato ad oggi ok poi qui sotto appunto chiedono se non sbaglio non si è parlato di guest mode sì il guest mode è uno è un tipo di cache che vedete qui eh che è possibile abilitare o meno se voi qui ehm lo andate ad abilitare allora tra l'altro vi faccio vedere quella cosa che vi dicevo prima vedete che qui lui vi dice attenzione che questo modificherà la htaccess file questo vi avvisa giustamente perché se voi avete un vostro htaccess che non volete modificare o comunque avete salvato a qualche parte sappiate che lui ve lo modifica o magari lo proteggete dalla modifica non lo so eh andrà a modificare anche la lista per il crawler ma eh facciamo un passo in più appunto il guest mode andiamo a capire cos'è qui ve lo ve lo spiegano velocemente qui vi dice guest mode eh da una pagina una landing page sempre casciata sempre casciata per gli utenti che vedono per il gli utenti diciamo ospiti che vedono il per la prima volta la pagina ok e eh però diciamo che se questo non ci basta potete appunto cliccare qui learn more io l'ho appena fatto vabbè lo faccio vedere e lui vi porta sul dettaglio vedete appunto andando che vi va a specificare nel dettaglio cosa fa il guest mode quindi vi dice attenzione quando è abilitato eh light speed cash vi darà la pagina eh direttamente dalla cash questo significa che eh la prima volta per i per i visitatori guest quindi che vengono per la prima volta le SX anche se voi avrete detto di abilitarlo non lo usa dice e no e neanche tutti i meccanismi di cash che lui ha userà la pagina casciata direttamente per lui e qui vi spiega poi nel dettaglio appunto attenzione che questo abilitando questa operazione eh andrà a creare ulteriore varie eh variazioni di cash eh se avete la cash del credibilitato andrà a cambiare tante andrà a creare tanti queste cash cioè perché ognuno di questi parametri effettivamente eh può andare può implicare diverse eh modifiche poi eh nel nel modo di di comportamento nella nella generazione della cash quindi ecco andate sempre a vedere il dettaglio ok addirittura vedete qua vi dice attenzione se stai usando Cloudflare eh non abilitare l'APO perché quando usi questo non devi avere la duplicate function quel che vi spiegavo prima e e quindi ecco vi dai proprio delle 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 dritte dei dei suggerimenti che eh sono utili per andare a capire esattamente cosa cosa vi serve cosa è adatto a voi. Sì le guide sono fatte veramente molto bene sono molto dettagliate danno anche dei consigli di non solo la descrizione di della funzionalità di per sé ma vanno anche ad aggiungere informazioni e trucchetti insomma per cui veramente fatte bene le guide. Quindi un'altra domanda chiede è possibile migrare il server non dedicato da Pleska cPanel? E allora. Quindi immagino sia hosting in questo caso. O un server gestito da lui? Cioè in generale corradio se sbaglio allora sicuramente il contrario sì cioè da Plesk a cPanel c'è il tool che lo fa. Non so se da cPanel a Plesk ci si. Da cPanel non mi pare. Però in generale queste cose qua io non diciamo per me indole non sono molto dell'idea di fare delle conversioni. Cioè piuttosto preferibile fare un server e fare la migrazione che ci sono dei tool per fare la migrazione che aiutano. Sì sì esatto. Per esempio la migrazione è molto veloce piuttosto che sporcare un'installazione con stratificazioni che poi comunque non viene male qualche cosa lasciano. No no esatto quello io mi riferivo non cioè parliamo sempre una volta che c'è cPanel o Plesk non cambiare direttamente sotto server ma usare dei tool di migrazione in questo caso Plesk sono certo che lo faccia se voi avete un server cPanel e ha creato un server Plesk lui è in grado di prendere tutte le configurazioni da cPanel quindi domini versioni PHP e quant'altro e fare questo. A livello di hosting invece scusami a livello di hosting Aruba Business no. Quindi sono pacchetti diversi. Se hai un pacchetto Plesk non puoi convertirlo in pacchetto cPanel. Ho comprato un altro pacchetto e vanno migrati proprio i domini. Ok e giusto per aggiungere un'informazione perché qui oggi abbiamo parlato di performance abbiamo parlato di ottimizzazione abbiamo da poco fatto un altro webinar che vi invito a vedere se non l'avete già seguito perché rientra sempre in questo in questo ambito che è quello di PHP X-Ray perché ok la cache vi aiuta vi fa tutta questa questa ottimizzazione vi permette di eh fruire i contenuti non duplicarli non diciamo a ridurre no il tempo il percorso di creazione di una pagina eh ma sotto tutto questo c'è il vostro codice c'è eh la la l'ottimizzazione del codice vero e proprio e brevemente solo per invitarvi a vedere il 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 webinar se non l'avete già fatto su X-Ray con X-Ray siete in grado di andare per esempio nel caso di WordPress lui stesso vi metterà in evidenza quali sono i plugin che vi occupano più tempo quali sono le query eh SQL che vi mettono più tempo a essere eh diciamo eseguite quali sono le le chiamate di sistema che ci mettete di più il server ci mette più a fare e quindi ecco diciamo che il questo preoccuparsi della cache preoccuparsi della dell'ottimizzazione a questo livello deve essere l'ultimo scalino di un'ottimizzazione fatta alla base del codice e del server che in caso di eh appunto di un manager o dell'hosting ce l'occupiamo noi quindi ottimizzazione del server con tutte le impostazioni che ho fatto vedere all'inizio in modo che il server sia pronto ad accettare le connessioni ottimizzate e quant'altro ottimizzazione del codice vi dà una grossa mano PHP X-Ray eh che vi permette di fare un debug in tempo reale e alla fine accendiamo la cache e andiamo a trarre ulteriori benefici soprattutto ovviamente parliamo di siti con grossi numeri perché la cache ricordatevi che ha senso solo nel momento in cui eh un utente arriva dopo che un altro utente è già arrivato ed è stata creata questa pagina che c'è da per lui è vero che di default lui lo tiene una settimana però sui siti che hanno mediamente poche visite a allora diciamo ovviamente non vedremo nette differenze su su sulle performance sì la la fruizione della che della pagina potrà essere più veloce ma parlo di carico del server e quant'altro non non faremo grossi cambiamenti eh va bene se non c'è una domanda ehm come si può comprare l'iSpeed eh allora l'iSpeed si può acquistare direttamente dal sito oppure in alternativa essendo noi partner eh è possibile acquistare anche da noi quindi è necessario aprire un ticket nella categoria commerciale e poi eventualmente con il supporto di un tecnico per verificare la compatibilità con il vostro con il vostro eh con il vostro eh con le vostre istituzioni però diciamo che ad oggi è necessario aprire un ticket nel reparto commerciale ehm sì eh va bene visto che abbiamo ancora un paio di minuti intanto vi faccio vedere solo l'ultima cosa che è interessante eh sempre eh parlando di light speed allora innanzitutto se foste acerbi del sistema di come funziona la cache qui vi spiega proprio come va a lavorare la speed premesso che la speed è una situazione è una soluzione eh non open source quindi diciamo dove non potete andare proprio a vedere il codice a differenza altri sistemi di cache però comunque lui vi spiega un po' come funziona ecco quello che vi ho spiegato io già prima un po' la public cache la private cache l'SX ma eh appunto vi permette di di capire in questo modo andare a eh creare un sito che meglio si adatti soprattutto in caso di eh numerose visite e e e poi soprattutto la guida eh troubleshooting che vi permette di eh andare a fare a capire i problemi macro che spesso hanno a che fare eh con qualche plug in qualche parte del codice che mh frena un po' le speed per esempio con la generazione dei dei cookie eh oppure eh la modificazione la modifica dell'HTA c'è sì insomma plug in e quello che vi dicevo prima che eh eh l'ultima parte quella di potervi scrivere e fare eh una un vostro plug in eh direttamente senza cioè per una per un prodotto che non è tra quelli gestiti da loro vi spiega come farlo e qui c'è tutta la 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 guida per gli sviluppatori quindi come controllare la cache quindi vedete che banalmente eh chiamando il modulo light speed e andando a definire dei degli expire potete andare a farlo voi che è quello che poi va a fare lui un po' sull'HTA c'è se nelle impostazioni di sistema che andate a fare niente questo diciamo che così avete una un quadro completo di quello che eh potete fare con le speed eh direi che come primo impatto a light speed con oggi avete diciamo potete cominciare a sperimentarlo in tutto e per tutto e rendervi conto essere autonomi a vedere il miglioramento a capire il miglioramento con come abbiamo visto prima perfetto allora io direi che siamo stati puntualissimi ringrazio Mauro per averci parlato oggi di light speed eh eventuali domande a cui non siamo riusciti a rispondere verranno comunque eh vi verrà comunque poi risposto in un secondo momento vi ricordo che sarà come tutti i nostri webinar possibile poi rivederlo attraverso il nostro canale social e all'interno del nostro pannello al mentre qualche giorno verrà pubblicato e quindi un eventuale dubbio eh potete comunque andare a rivedere il percorso il filmato oppure eh chiaramente noi siamo sempre a vostra disposizione per cui Mauro e tutti gli altri ragazzi eh di Robo Business sapranno sicuramente risolvere le vostre domande e vi ringrazio nuovamente e vi auguro una buona serata. Grazie, una serata. Grazie. 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 Grazie.